E' qui che comincia la nostra storia. Una scoperta scientifica che non ha considerato le proprie conseguenze. La natura fece il proprio corso e scatenò il caos. Stavolta la nostra illusione di controllo era maggiore e il caos ebbe conseguenze ben peggiori. E per un attimo abbiamo ricordato il valore della vita. Ma con il tempo il ricordo di cosa vuol dire perdere il controllo sbiatisce. E l'ambizione, l'ambizione tende a persistere. Per i dinosauri rimasti lì, il tempo si faceva immateriale. Da miracoli della scienza, divennero risorse da sfruttare. Forse è ora di riflettere sulla vera natura della natura. Un ciclo eterno. Un solo scopo. Sopravvivere. Ciò significa che i dinosauri e l'umanità dovranno trovare un modo di appianare le loro divergenze. No Per noi il deserto è una terra desolata. Con nient'altro che pochi estremi esempi di vita. Ma la vita prosperava in questi luoghi centinaia di milioni di anni fa. Data la storia geologica di questo posto, non è così improbabile vedere dei dinosauri sotto questo sole coccente. Ma la situazione attuale con i dinosauri in totale libertà è insostenibile per quelli al potere, o che credono di essere, pertanto abbiamo un problema oppure un'opportunità. È qui che entri in gioco tu. Hanno già ignorato i miei avvertimenti. Forse stavolta con te sarà diverso. Voglio concedermi il beneficio del dubbio. Ok, direi che è il momento delle presentazioni. Io sono Cabot Finch, vice direttore del Dipartimento Pesca e Fauna Selvatica degli Stati Uniti. Se suona importante è perché lo è. Ma non perdiamoci dietro a titoli, nomi e gerarchie burocratiche. Ehm, te la faccio semplice. Tu lavori per me. Visto? Haha, semplicissimo! Collaborerai con degli specialisti. Ti presento Claire Deering e Owen Greedy. Già. Abbiamo esperienza sul campo con i dinosauri. Sono l'ex manager di Jurassic World. Io e Owen abbiamo contribuito a costruire il parco. E sfortunatamente abbiamo anche assistito alla sua distruzione. Lui è Owen. Lavora con i Veloci Raptor. Puoi considerarmi un domatore. Ma ufficialmente sono uno studioso di comportamenti animali. Quando è successo stavo cercando di guadagnarmi la loro fiducia. Ok. Ci sono alcune cose da fare al più presto. Serve un centro di risposta con un'auto per la squadra di guardiani e un elicottero... Per la squadra di cattura. Stiamo facendo grandi progressi. Quindi restiamo concentrati. Il prossimo passo è costruire un generatore ausiliare che fornisca energia al centro di risposta. E assicuriamoci che l'edificio sia collegato alla rete di sentieri. Se non è operativo, non ci serve a niente. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta. E potremmo avere problemi ancora più grandi se riusciremo a trovarlo. Conviene prendere un elicottero della squadra di cattura. Puoi usare i tranquillanti dall'alto. Sai, mi piacciono i miei ragionamenti. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta. E assicuriamoci che per la squadra di risposta di risposta di risposta di risposta. Dove lo portiamo, questo vino sempre? Abbiamo il recinto. Ora ci serve solo la consegna. Non è sempre così, forse? No, non devi rispondere. Richiesta di raccolta risorsa ricevuta. John Hammond si preoccupava di quel che sarebbe successo con i dinosauri in libertà. ci pone di fronte a nuove sfide e forse anche opportunità. Trasporto risorsa iniziato. ... ... ... ... Grazie a tutti. Consegna completata. La fuori non c'è molto di cui i dinosauri possano nutrirsi. Perciò ci servirà una mangiatoia nel perimetro di quel recinto. I dinosauri affamati mi agitano. Già, lo stesso vale per me. Grazie a tutti. Qui direi che ci siamo. Ricevuto. Ci serve un chiaro quadro dello stato di salute del dinosauro. Usa il veicolo della squadra di guardiani. Owen ti aiuterà a esaminare l'animale. Poi pianificheremo le nostre prossime mosse. È davvero necessario pianificare. Io sono più un tipo a cui piace improvvisare sul momento. Vorrei dire che se non funziona, proveremo a fare a modo tuo. Anche questo mi sembra pianificare. Anche questo mi sembra. Non possiamo riprodurre ciò che c'era sulle isole, ma dobbiamo comunque fare il possibile per far sentire i dinosauri a proprio agio in questa parte dell'Arizona. Crema solare e cocktail a bordo piscina? Che ne dici? Stai scherzando? O vuoi davvero che ti risponda? Ok, Claire. Riformulo. Che ne dici di aggiungere un po' del loro terreno preferito? Meglio? Ok, bene. Ok. 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 Dobbiamo monitorare quei dinosauri più da vicino E per farlo ci serve un posto di guardia nel loro recinto So che sembra una follia Ma funzionerà Fidati Fidati Mi segnalano dinosauri liberi intorno alla struttura Claire È possibile ma le segnalazioni non forniscono il quadro